In Italia salgono i livelli di sicurezza in vista del weekend di Pasqua dopo l'attentato di venerdì scorso a Mosca. A Vicenza, vertice in prefettura, è stato deciso di aumentare presidi e pattugliamenti in divisa in borghese verso gli obiettivi considerati sensibili, fra cui il santuario di Monteberico, Campo Marzo, le basi militari statunitensi e le sedi istituzionali, oltre ai luoghi di ritrovo in città e alle città di Bassano e Asiago in quanto maggiori mete turistiche. Controlli capillari anche in tutti i luoghi con grande afflusso di persone, oltre che su strade e autostrade.